Benvenuti a questa terza lezione sulla filosofia di Pascal, dedicata allo scacco, cioè al fallimento, della ragione umana nel suo tentativo di trovare una certezza assoluta e quindi un senso dell'esistenza. In particolare, in questa terza lezione, esamineremo l'analisi che Pascal conduce intorno al tentativo della ragione e di trovare una certezza relativamente alla natura di Dio in campo teologico, relativamente alla natura dell'uomo in campo filosofico e relativamente ai principi che devono guidare e agire in campo morale, quindi il bene, la giustizia e così via. Per esaminare questi argomenti mi servirò di questa mappa che ho preparato e che trovate linkata nella descrizione del video. Nelle due lezioni precedenti abbiamo visto come la ragione nella forma della mentalità comune tenti di trovare un senso dell'esistenza nel diversman, nel divertimento, nel piacere, nella ricerca del piacere, trovando però un fallimento in questo. Anche la scienza e quindi la ragione umana applicata alla natura e allo studio della natura fallisce nel tentativo di costruire una conoscenza naturale fondata e certa. A questo punto dovremo esaminare cosa accade in ambito teologico, in ambito morale e riguardo al modo in cui i filosofi hanno trattato il problema dell'esistenza. Prima di procedere, ricordiamo brevemente due punti essenziali, ingrandisco la mappa, e cioè Cartesio aveva in mente, chiedo su da Pasquale, aveva in mente un'apologia del cristianesimo, quindi un progetto sistematico piuttosto impegnativo, che originariamente mirava a creare, a scrivere un'opera in difesa del cristianesimo, indirizzata a quelli che sono i nemici del cristianesimo prevalentemente, e quindi gli ati e i libertini, il pensiero ati e i libertini in quel periodo, circolava in modo piuttosto ampio, per mostrare la superiorità del cristianesimo rispetto a quella ragione umana invocata ed evocata dagli ati e dai libertini. Tuttavia, la morte di Pascal, morto giovanissimo nel 1662, a soli 39 anni, impedisce a Pascal di portare a termine questo progetto. L'opera rimane incompiuta, e i pensieri trovati scritti da Cartesio, dai suoi confratelli presso l'abbazia di Porroial, vengono pubblicati col titolo di Pensieri, appunto, i famosi Pensieri di Pascal. Vi sono varie dizioni. La struttura dell'opera, che era stata prevista da Pascal, doveva essere costituita da varie parti, fondamentalmente due parti, una pars destruens, che mirava a mostrare la miseria della ragione umana e la condizione di miseria, quindi negativa, in cui si venne a trovare l'uomo senza Dio. Mentre la parte construens, la parte quindi propositiva, mirava a illustrare la soluzione in Dio di tutti i problemi dell'esistenza umana, e quindi la condizione di felicità cui l'uomo poteva accedere attraverso la fede in Dio. E' importante anche considerare che Pascal, matematico e fisico, non abbandona per niente il suo tipico modo di procedere scientifico, ma anzi possiamo dire che utilizza come metodo il metodo scientifico applicato a queste questioni di tipo esistenziale, di tipo filosofico e teologico. Metodo scientifico che possiamo scandire in alcuni momenti, un esame del fenomeno, e quindi un esame della condizione dell'uomo, che miri a osservare, esplicitare e descrivere la sua contraddittorietà, quindi raccogliere le osservazioni. Un'ipotesi esplicativa di questa situazione contraddittoria dell'uomo, cioè solo il cristianesimo sarebbe in grado di spiegare la natura contraddittoria, insieme negativa e positiva, di grandezza e di miseria, propria dell'uomo, e quindi verificare l'ipotesi attraverso un esame di varie situazioni e condizioni umane e dei vari ambiti della speculazione umana, la teologia, la scienza, la filosofia e così via. Per concludere che cosa? Per arrivare a due conclusioni, una sulla natura umana, finalmente disvelata e rivelata, e una su quale regola di comportamento assumere, una volta chiarito, quale sia la natura umana e perché vi sia questa contraddizione nell'uomo, questa aspirazione all'infinito e questa incapacità però di perseguire con le sue sole forze l'infinito in ogni campo. Al centro della mappa ho messo la copertina dell'edizione del 1670 dei Pensieri di Pascal. Riportiamo la mappa alle sue condizioni originarie, dopo aver appunto osservato come il fallimento dell'uomo, sia, per meglio dire, lo scacco della ragione umana, aspetti l'uomo, qualsiasi sentiero egli compia, egli intenda percorrere, e dopo aver ricordato appunto come solo nel cristianesimo si trovi una spiegazione ragionevole della condizione umana, vediamo come dal punto di vista della filosofia il problema dell'esistenza umana è stato affrontato. Ebbene, l'uomo è stato sempre caratterizzato, secondo Pascal, ed è ancora caratterizzato dalla sua natura mediana. In ogni ambito noi consideriamo la natura dell'uomo, nell'ambito dell'essere, della natura, quindi della sua esistenza, nell'ambito della conoscenza, nell'ambito dell'agire, del suo comportamento, in tutti questi ambiti noi troviamo e constatiamo che l'uomo ha una natura mediana, si trova in una posizione che è una via di mezzo tra il tutto e il nulla nel campo, per esempio, dell'essere. È infatti collocato tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. È un misto, potremmo dire, di essere e non essere, per ricorrere a due categorie tradizionali della filosofia, con cui, per esempio, Platone indica la natura propria, l'essenza del mondo dell'apparenza in cui vive l'uomo, che è appunto un misto di essere e di non essere, quindi questa natura mediana da subito viene posta al centro dell'attenzione della filosofia, sin da Platone. Se infatti andiamo a leggere il testo di Pascal, o uno dei testi in cui lui esprime questa considerazione, vediamo che non so chi mi abbia messo al mondo, non so che cosa sia il mondo, né so che cosa sia io stesso, sono una ignoranza spaventosa di tutto, non so che cosa sia nel mio corpo, i miei sensi, la mia anima, questa stessa parte di me che pensa a quello che dico, che medita sopra di tutto e sopra se stessa, e non conosce se meglio del resto, quindi ignoranza totale di tutto, anche di se stessi. Vedo questi spaventosi spazi dell'universo che mi rinchiudono, mi trovo confinato in un angolo di questa immensa distesa, senza sapere perché sono collocato qui piuttosto che altrove, senza sapere perché questo po' di tempo che mi è dato da vivere mi si è assegnato in questo momento piuttosto che in un altro di tutta l'eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Da ogni parte vedo soltanto infiniti, che mi assorbono come un atomo, e come un'ombra che dura un istante e scompare poi per sempre. Tutto quello che so, e arriviamo alla considerazione finale, è che devo presto morire, ma quel che ignoro di più è appunto questa stessa sorte che non posso evitare. Natura mediana e quindi condizioni di medietà. Siamo tutto di fronte all'infinitamente piccolo, siamo invece nulla di fronte all'infinitamente grande. Non cambiano le cose se passiamo da questa condizione di ignoranza su noi stessi e sul mondo, e da questa constatazione della nostra medietà, se passiamo ad altri ambiti, come quello della conoscenza. Anche in questo caso, il nostro intelletto si rivela mediano. La considerazione di Pascal è che non siamo né assolutamente ignoranti, né assolutamente sapienti, ci sfugge la scienza assoluta, anche se aspiriamo ad essa. È la constatazione di questa aspirazione che porta Pascal a considerare contraddittori alla natura dell'uomo, perché aspiriamo alla conoscenza assoluta, ma non abbiamo i mezzi per perseguirla, come già dimostrato da Pascal, nell'esame dei limiti del sapere scientifico. Non possiamo cogliere nel principio, nella fine delle cose. Ci troviamo quindi in quella che è la condizione di sapere qualcosa, ma di ignorare qualche altra cosa. E questa condizione è una condizione essenziale, cioè che non si può superare, non si può sperare che crescendo la nostra conoscenza, per esempio, della natura, si possa un giorno arrivare a conoscere la totalità degli eventi e delle leggi della natura, per i limiti stessi che sono propri, come si diceva, della scienza, argomento già trattato in una lezione precedente. Questa condizione di medietà tra la conoscenza e l'ignoranza vale sia che noi prendiamo in considerazione i nostri sensi, abbiamo delle soglie nella nostra percezione sensibile, non possiamo percepire tutto, abbiamo degli estremi al di sotto e al di sopra dei quali non percepiamo. Si pensi, potremmo dire oggi, ai colori, allo spettro dei colori, e ai colori che non vediamo, ma vale anche per il nostro intelletto, che è impedito dal cogliere, per esempio, i principi primi della conoscenza. Ci sfuggono, e quindi questa condizione di ignoranza è in qualche modo inevitabile, come inevitabile il desiderio invece di sapere. Ancora una volta le cose non cambiano se ci indirizziamo nell'ambito morale a quello che è l'agire. Tutti noi cerchiamo la felicità e ci troviamo però nella stessa condizione di medietà. Cerchiamo una felicità assoluta che dia un senso ultimo alla nostra esistenza. Tutti vogliono essere felici, ma non abbiamo gli strumenti per realizzare questo desiderio, per soddisfare questa richiesta, esigenza di una felicità assoluta. È vero che in quella che Pascal chiama la mascherata sociale ci si cerca di convincerci che il piacere possa soddisfare questa ricerca della felicità. Ma in realtà, come abbiamo già visto in una lezione precedente, tutti i piaceri alla fine risultano vani, nessuno dei piaceri può soddisfare la ricerca di un bene assoluto e quindi di una felicità assoluta. Insomma, se andiamo a vedere in tutti e tre gli ambiti, quello ontologico dell'essere, della nostra esistenza, quello della conoscenza e quello dell'azione, dell'agire, l'uomo è un insieme di miseria e di grandezza. La miseria dell'uomo è proprio data dal fatto che dentro di noi vi è uno scarto. Scarto che è ineliminabile, cioè che non può mai essere colmato, tra ciò a cui noi aspiriamo e quindi il nostro volere e quella che è la nostra realtà, quindi ciò che è il nostro potere. Il nostro volere è tale da desiderare in ogni campo qualcosa di infinito, la verità assoluta, quindi l'infinita conoscenza, il bene e la felicità assolute, quindi l'infinito piacere, il godimento infinito di un bene assoluto e così via. Tuttavia, a questa aspirazione propria del nostro volere corrisponde corrisponde un potere, cioè corrispondono delle possibilità che sono finite dovute ai limiti del nostro intelletto, dovuti ai limiti della nostra conformazione fisica, dovuti ai limiti dei nostri sensi e così via, che ci impediscono di soddisfare ciò che vogliamo. Da qui il fatto che l'uomo venga definito da Pascal come un desiderio frustrato. se la nostra miseria nasce dallo scarto che è in noi, contraddizione tra finito e infinito, così Pascal definisce questa situazione. Desideriamo la verità e non troviamo in noi se non incertezza. Cerchiamo la felicità e non troviamo in noi se non miseria e morte. Siamo incapaci di non aspirare alla verità e alla felicità e siamo incapaci di certezza e felicità. appunto la situazione che si diceva prima di scarto incolmabile. Dicevo, se così stanno le cose, d'altra parte, nell'uomo vi è anche grandezza. Ingrandiamo la mappa. Grandezza che è dovuta proprio al fatto che in quanto tali, cioè in quanto esseri umani, noi siamo alla ricerca dell'assoluto. Vi è in noi quindi un segno, una traccia dell'assoluto. Pascal parla di una vocazione che ci spinge a un ordine superiore a quello della nostra esistenza, della nostra conoscenza, del nostro agire morale. Un ordine superiore che in qualche, la cui aspirazione in qualche modo è in noi, pur non essendo in noi, la capacità di poter conseguire questo ordine superiore. Questo assoluto che si configura come ricerca della felicità assoluta, del bene assoluto, della verità assoluta, delinea, delinea quella che è la grandezza in qualche modo dell'uomo. Siamo capaci di pensare e aspirare a cose grandi. Ma la stessa ragione è in qualche modo un segno della grandezza dell'uomo, la facoltà di pensare, soprattutto la stessa consapevolezza della nostra miseria. La nostra miseria, ciò che ci inchioda quindi a questa condizione di frustrazione, è ciò di cui noi siamo consapevoli e rappresenta la negatività della nostra esistenza, ma al tempo stesso l'essere consapevoli di questo ci rende grandi in una considerazione che avvicina molto a Pasquale a quelle che saranno le future osservazioni di Kant su questo argomento. La natura infinita ci sovrasta, ma il fatto che noi siamo consapevoli di questo ci rende in qualche modo più grandi della natura. Una sorta di rivincita sul sublime dinamico e sul sublime matematico sull'infinità della natura che appunto sembra schiacciarci. Quindi insieme miseria e grandezza dell'uomo, il famoso passo in cui Pasquale esprime tale considerazione sulla dignità umana è questo. L'uomo non è che una canna, qualcosa di flessibile e di fragile, la più debole della natura, ma è una canna pensante. Non c'è bisogno che tutto l'universo s'armi per schiacciarlo. Un vapore, una goccia d'acqua bastano a ucciderlo, ma anche se l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancora più nobile di chi lo uccide perché sa di morire e conosce la superiorità dell'universo su di lui. L'universo invece non ne sa niente, è quasi un ribaltamento dialettico, la coscienza della propria miseria è coscienza sì della propria miseria, ma in quanto consapevolezza e quindi facoltà di pensare, l'uomo pensando alla propria miseria è più nobile e più grande della natura stessa. Sono quindi presenti nell'uomo questi due elementi contraddittori e questo che rende difficile capire l'uomo è per questo che Pascal chiama l'uomo una chimera come l'animale fantastico le parti del cui corpo sono composte da parti di diversi animali tanto da farne fare della chimera un mostro. L'uomo è un paradosso un paradosso di fronte a se stesso Pascal esprime questo concetto in questo famoso passo quale chimera è dunque l'uomo quale novità quale mostro quale caos quale soggetto di contraddizione quale prodigio è giudice di tutte le cose ma è debole come un verme della terra è depositario della verità ma è la cloaca la fogna dell'incertezza e dell'errore è insieme gloria è insieme rifiuto dell'universo chi sbroglierà questo garbuglio è proprio la condizione umana paragonata a un groviglio inestricabile la natura confonde i pirroniani la ragione confonde i dogmatici chi diverrete dunque o uomo che cercate qual è la vostra vera condizione con la ragione naturale l'ho letto malissimo chiedo scusa a questo punto Pascal assume e focalizza il tema della incomprensibilità dell'uomo l'uomo è un mostro incomprensibile è un paradosso e come la filosofia ha affrontato questo tema lo ha affrontato secondo Pascal in modo dualistico alcuni movimenti filosofici una certa tradizione ha considerato l'uomo come ente naturale e ne ha mostrato la miseria accentuando in modo unilaterale questo aspetto della miseria dell'uomo è il cosiddetto pirronismo da Pirrone fondatore dello scetticismo che mira appunto a mostrare i limiti dell'uomo in ogni ambito e che conduce a una visione radicalmente pessimistica dell'uomo dall'altra parte invece la grandezza dell'uomo è stata assolutizzata in modo unilaterale dai dogmatici cioè da coloro che hanno messo in evidenza invece l'aspetto razionale dell'uomo e che quindi sono pervenuti una visione ottimistica dell'uomo e della sua ragione l'uomo con la sua ragione riesce ad essere padrone della sua esistenza in ogni ambito diciamo proprio è simmetrica questa forma di ottimismo proprio del dogmatismo al pessimismo dei pirroniani e quindi qual è il corretto atteggiamento che bisogna assumere secondo Pascal l'unica possibilità è quella di evitare ogni unilateralismo di mantenere insieme questo aspetto contraddittorio dell'uomo è la contraddizione che dobbiamo spiegare non dobbiamo eliminare la miseria in favore della grandezza o la grandezza in favore della miseria ecco perché Pascal scrive se esso cioè se l'uomo si esalta io lo deprimo se l'uomo si abbassa io lo esalto e sempre lo contraddico finché non comprenderà che è un mostro incomprensibile si va di bene che è proprio questo che l'uomo deve comprendere che è un mostro incomprensibile cioè deve comprendere com'è possibile che insieme in lui convivano grandezza e miseria perché grandezza e miseria sono entrambi parti della natura umana e quindi non si può eliminare l'una in nome dell'altra se non ovviamente con la conseguenza di rendere impossibile chiarire quella che è la vera natura dell'uomo quindi perché è un mostro incomprensibile l'uomo perché ci sono insieme miseria e grandezza sarà questo lo scopo e l'obiettivo che Pascal perseguirà in quella che è la via della fede ed è proprio per questo che il cristianesimo si mostra più ragionevole della stessa ragione umana perché è in grado di spiegare questa contraddizione chiarito quindi il fallimento della filosofia nello spiegare il problema dell'esistenza vedremo nella prossima lezione cosa accadrà nella ricerca teologica e nella ricerca morale cioè se in teologia e in morale si riuscirà ad arrivare a un senso a una spiegazione della natura contraddittoria dell'uomo e infine nell'ultima lezione vedremo di seguire la via della fede quindi la ragionevolezza del cristianesimo e la scommessa su Dio grazie e risentirci